Sì, è vero! Sono abituati a mangiare le 11 e mezzo, cioè vanno già fame, quindi... Te compri il che risso? Te compri il che risso? Te compri il che risso? Ma no, ma che era? Che schifo! Ma cazzo, ma hai conoscere? Che schifo! Che schifo! Quella è una cosa pericolosa! No, non esiste lo scartaggio! Quella è una cosa pericolosa! Cazzo è sta roba! Porco Dio! Non avevi visto una cosa del genere? Cari no! Bisogna chiamare il 112 qua! Cosa? Cazzo è sta roba! Ma hai visto una cosa così grossa? Quella è una cosa pericolosa! Ma hai visto una roba? Sarà anche verenosa! Ma cos'era? Eh no, diciamo... Ma subito, non stai scherzando! Ma ma che... Quella è una cosa pericolosa! Ma tonta che roba grande! Che schifo! Ma hai visto una cosa schifo? Ma te mi stai abbracciando in vita tua? No, vai! Potrebbe essere anche una tarantara che è verenosa! Ma ma questa è pure! Ma ma... Ma ma... Ma ma... Ma cosa chiudi? Stai fermo? Apro, apro tutto! Ma c'è il sole! Ma guarda! 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 Chiudi! Chiudi! Vieni! Vieni! Ma che cazzo è sta? Venite qua! Non c'è male! Ma questa è una cosa! Ma questa è una cosa! Questa potrebbe essere anche una tarantola che te 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 te! Guarda che può essere beneduta che te te! Ma non è una tarantola! Ma schifo guarda in vera! Non esiste scalaffaggio così grosso! Sono una donna! Lo scalaffaggio è piccolo, non esiste così! Questa potrebbe essere una cosa pericolosa nel senso che può succedere qualcosa di grave! Cosa faccio? Che hanno assumito il 113! Ma... Polizia... Certo! Polizia! C'è una cosa troppo grossa in casa mia che gli ho paura! Scusa! No, io chiamo la mia mamma adesso! Ma... Cosa ti ho? Che te la mano? Che devi da fare? Ma anche la signora di sotto, con il tazio che c'è il giardino con... Ma hanno fatto la democratizzazione ieri! Beh, le tessere... Beh, le tessere... Beh, chi non tu riesci a dare il porto? Ma anche per gli insetti! Ma è troppo! Ho visto un breve lo che c'è! Ma è vita mia! Ma stai scherzando? Ma che cazzo delle malle? Ma stai chiamando? Pronto, ma... C'è una bestia mai vista in casa, ma ti giuro, è una cosa grossissima. È una cosa che fa paura. È una cosa paulosa, ma sarà 20 centime, fino a non aver vista. Ma è vera Fitta? Che cazzo è stella? Non è così, tu mai puoi venire, vabbè ciao ciao. Chi è? Come si fa? Come facciamo? E io ho paura. Non ho paura di dare un colpo, perché se gli dai un colpo, e dopo quella vola, musica, che ne so io. Pericoloso, eh? Non puoi fare, stai fermo, stai fermo. Ma che cosa sia scarabeggi? No, questa è una cosa che ti manda all'ospedale. Guarda che roba, hai grandissimo. Ti manda all'ospedale quella cosa lì. E cosa devo fare adesso? Come si può fare? No, sono venuto. Stamato troviamo qua. No, no, no. Con l'inseticida, provo. Dove l'inseticida? No, l'inseticida che noi gliela parliamo. Ma forse ce lo può. Ma se quello vola e ti viene addosso, è pericoloso. Sì, ce l'ho. Ce l'hai? Sì, ma se quello vola e ti viene addosso. Qua non c'è sopra le feste. No, no. Ma che? Ma sei sicuro che vedi? Mamma mia. Ma non si muove mica. Ce l'hai qualcosa di solito? Hai un colpo? No, io voglio. Ma che cosa l'anima? Hai un colpetto, papà? Sì, se vuole e ti viene addosso, che fai? Ma come faccio da venire stamattina? Ma come dormiamo stamattina qua? Ma sei fuori? Come facciamo? C'è una scopa? Facciamo quella scopa? Facciamo quella scopa? No, ma ci sono così. Tutta la porta. Ho questo, vai. No, no. Non fai un cazzo per questo. No, perché si viene addosso? Appunto, questo è per il danzare. Non c'è per me. No, no. No, ma non c'è per poi. Ci sono così. No, cosa posso avere? Mi mandarei a fuori. Cosa posso? Ma non lascio i suoi fuori. Ah, è troppo grosso. No, io non posso. Ma che cosa cosa? No, ma non posso. Non ho pensato a te. To è un mire. No, non vedo niente qua. Con la carta igienica forse. Come la carta? Che cazzo fai con la carta in giro? Ma sei scemo! Guarda che hai paura che staccano tutti gli insetti! Non è l'unico no! Ti ha già paura di un ragno? Ma spiegala una cosa, come mai non si muove per niente? Che cazzo ne so, perché troppo grosso non muove se non muove No, non fa un movimento di zampa di niente! Come mai? Aspetta, prendiamo una scopa e gli diamo una scopata Ma come prendi quella? Perché è incongruito questo? No, gli diamo una scopata con la scopa Dai, lascia stare sempre! Dammi la scopa, dammi la scopa Dammi la scopa, dammi la scopa No, gli do una scopata, fermi, fermi No, puoi servire l'onso, perché sei l'onso? No, puoi... Ah, fermo, puoi servire l'onso Ma no, è distante, lascia stare! No, 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 così mi viene adosso, mi viene adosso Mi viene adosso, mi viene adosso Mi viene adosso, mi viene adosso Fai tu! Ma sei scemo! Vedete un attimo, scusa Ma che è matto questo? Così grosso? Così, ma che cazzo stai facendo? Mi siete incoglionito tutto il tuo? Che non hai pronto soccorso, subito! Ahahah, non scherzo! Si, perché no sia? Perché se lo faccio da non accom freand vitamin Ah, ma che��는! Ma che vuoi? È una felicità vendita! È un felicità vendita! È un felicità vendita! È un felicità vendita! È un felicità vendita! La felicità vendita하는田 Non blocchi ma bless! Inilah specialist